Allora Noah, tu sei anche un attore oltre che un modello, preferisci recitare o fare il modello? E che differenza c'è fra le due professioni? Penso che la differenza sia enorme anche se io ho appena iniziato questo percorso, ma comunque credo che venendo dal mondo della moda i due mondi un po' si parlino, quindi anche le persone nell'industria del cinema in qualche modo sono influenzati da quello che succede nella moda e viceversa. Io comunque sto imparando, mi interessa tantissimo vedere come gli attori si preparano alle parti e le diverse tecniche che in qualche modo affrontano per prepararsi al personaggio. Comunque mi sto divertendo molto e insomma spero di fare bene in questo settore. Noah, com'è stato lavorare con Mariano Vivanco in questo libro Uomini di Dolce & Gabbana che andiamo a vedere stasera in questa mostra che durerà fino al 22 gennaio e com'è stato anche lavorare con un fotografo che tu dovresti già conoscere visto che hai fatto già delle altre campagne pubblicitarie con Dolce & Gabbana? Ricordo che uno dei primi servizi fotografici che ho fatto per Dolce & Gabbana probabilmente è stato scattato proprio da Mariano Vivanco sette anni fa e quindi questa collaborazione con questo fotografo Dolce & Gabbana dura da un po' qualsiasi cosa poi alla fine io faccia con questo marchio finisce per essere qualcosa di grande successo. in particolare le foto di questo libro sono state comunque ritratte in diversi momenti e comunque in momenti spontanei. C'è sempre alla base comunque anche il divertimento e la fiducia poi nel fotografo e nel rapporto con la Maison e credo proprio che queste foto siano molto sexy. Sexy book I guess Noa hai girato una scena abbastanza hot nel film Sex and the City con questa attrice appunto che interpreta il ruolo di Samantha e ci chiedevamo insomma come ti sei sentito a recitare questa scena un po' così bollente diciamo fra virgolette Ma era da un po' di tempo che comunque aspiravo a lavorare nel cinema quando mi è stata offerta questa possibilità quindi io ovviamente l'ho presa al volo è vero che la scena era imbarazzante però quando lavori in produzioni così grandi di questo tipo sai che tutto è assolutamente trattato a livello super professionale e quindi non avevo dubbi quindi sia le scene di dialogo che la scena di sesso io le ho affrontate nello stesso modo con la stessa serietà immagino Noa non mi sono sentito particolarmente imbarazzato anzi mi sono divertito veramente molto Quando è che un uomo è bello oggi? Qual è la tua idea di bellezza maschile? Quando mi riferisco alla bellezza solitamente penso di più al genere femminile però se devo parlare comunque di bellezza come potrei definire la bellezza credo che sia qualcosa che viene dall'interno in termini di sicurezza, autostima e quindi credo che quando una persona è in grado di trasmettere questo sicuramente appaia più bella questo è quello che io ad esempio ho sperimentato nei miei anni da modello e ho imparato a capire che la gente mi considera attraente allora se mi devo chiedere perché è proprio quando comunque posso lasciarmi andare quando trasmetto questa sicurezza e poi ci permette di essere confidente in la forma di parlare in la forma di parlare e in la forma di interagire con le persone e questo per me è attrazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti